benvenuti a questa lezione che fa parte del nostro percorso formativo inserito nella piattaforma dedicata all'iniziativa il censimento permanente sui banchi di scuola io mi chiamo francesca e sono un'amica di pop l'iniziativa che siamo qui a presentare appunto il censimento permanente sui banchi di scuola è inserito all'interno della campagna di comunicazione dei censimenti permanenti e in particolare nel censimento della popolazione e dell'abitazione questo è un progetto realizzato grazie alla collaborazione del ministero dell'istruzione perché realizzare un'iniziativa sul censimento permanente della popolazione e delle abitazioni i censimenti rappresentano uno strumento fondamentale per la collettività una fonte di dati ricchissima che ci consente di conoscere e comprendere il nostro paese il territorio in cui viviamo la società tutta questa è la ragione per la quale abbiamo pensato di realizzare un progetto di tipo informativo e formativo destinato direttamente alle scuole il primo censimento dell'italia unita risale al 1861 ma è solo nel 1926 che l'istat ha il compito di occuparsi dei censimenti e allora si chiamava istituto centrale di statistica fino al 2018 il censimento si è svolto a cadenza decennale sicuramente i vostri genitori e vostri nonni si ricorderanno il censimento del 2011 quello è stato l'ultimo anno che ha avuto una cadenza decennale dal 2018 il censimento diventa permanente ma cosa significa permanente? innanzitutto vuol dire che è svolto a cadenza annuale su un campione circoscritto di famiglie e inoltre vuol dire che vengono presi in considerazione anche dei dati provenienti da fonti amministrative il tutto per dare una restituzione di tipo censuario in ragione dell'importanza di questa operazione l'istat ha pensato di realizzare un'iniziativa dedicata proprio a voi studenti e in particolare alle classi di due ordini di studio la terza e la quarta e la quinta elementare e la prima, la seconda e la terza media il tema scelto per questa iniziativa è censimento e territorio una tematica sicuramente molto vicina a ciascuno di noi ai fini della realizzazione dei vostri elaborati l'istat ha pensato a un percorso formativo inserito dentro un kit che troverete nella piattaforma scuola.censimentogiornodopogiorno.it questo materiale formativo è composto di quattro moduli i primi due moduli sono uguali per ordine scolastico e sono destinati direttamente agli insegnanti saranno loro a riportarli in aula in base alla classe che si troveranno di fronte il modulo 1 è un'introduzione sui censimenti un'introduzione di tipo storico e racconta che cosa sono i censimenti dalla preistoria fino ai giorni nostri all'interno del modulo 1 troverete proprio due video destinati a voi studenti uno per le scuole elementari in cui compare POP che avrete sicuramente già conosciuto e uno per le scuole medie il modulo 2 invece narra a che cosa servono i dati perché i dati ci consentono di leggere e comprendere meglio la realtà che ci circonda nel modulo 3 e nel modulo 4 che sono differenziati per ordine scolastico troverete le chiavi per poter realizzare i vostri elaborati nel modulo 3 voi troverete una serie di dati che vi serviranno per raccontare il vostro territorio questi dati sono accorpati per percorsi tematici avremo un percorso popolazione un altro percorso popolazione straniera e infine il percorso istruzione e professione all'interno di questi percorsi troverete i dati che sono stati rilevati nel 2018 e nel 2019 grazie al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e che sono stati messi a disposizione di questa iniziativa proprio per voi inoltre avrete la possibilità di fruire di alcuni tutorial di tipo grafico che vi consentiranno di conoscere e navigare all'interno di banche dati ufficiali dell'istat il modulo 4 invece vi servirà per affrontare la parte finale di questa iniziativa ovvero le censi gare e la realizzazione del progetto creativo da un lato avrete dei materiali in particolare si tratta di batterie di test che vi aiuteranno per affrontare la competizione statistica dall'altro invece avrete le spiegazioni relative alle strategie per costruire un progetto di comunicazione a partire dall'informazione statistica le censi gare sono previste per la fine di marzo mentre la consegna del progetto creativo per la fine di aprile ad aiutarvi in tutta questa operazione ci sarà una segreteria organizzativa che potrete contattare tramite l'indirizzo email censimento.scuola.istat.it mi raccomando partecipate, la scadenza si avvicina quindi se avete qualsiasi dubbio non esitate a scriverci e potremo sicuramente aiutarvi a concludere il vostro elaborato vi aspetta una grande festa ci sarà al termine di questo lavoro una giuria di esperti che valuterà i progetti migliori e i due progetti migliori uno per la scuola elementare e uno per la scuola media saranno pubblicati sul nostro sito è possibile costruire un bel prodotto da vedere che aiuti a comprendere meglio il contenuto a partire dall'informazione statistica a presto e buon lavoro